E' nato a Torino, 32 anni e già insegna storia della filosofia all'Università di Milano. Si considera allievo indipendente di Hegel e di Marx, intellettuale dissidente e non allineato, al di là di destra e sinistra. Convinto che occorra continuare nella lotta politica e culturale che fu di Marx e di Gramsci, in nome dell'emancipazione umana e dei diritti sociali. Opinionista nelle più importanti trasmissioni televisive nazionali, ha tenuto a Teramo una conferenza sulla sostenibilità ecologica, sociale ed economica, invitato dall'Associazione Culturale Mariella Converti. Lui resta convinto che in ogni ambito l'importante è pensare con la propria testa, senza curarsi dell'opinione pubblica e del coro virtuoso del politicamente corretto. Diego Fusaro, intanto dove è nato e che studi ha fatto? Dunque, io sono nato a Torino nel 1983, ho fatto il corso di studi al liceo classico Vittorio Alfieri di Torino, dopodiché ho seguito i corsi di filosofia all'Università di Torino sempre e da lì mi sono poi spostato a Milano dove ho fatto il dottorato in filosofia della storia e dove sono rimasto perché poi sono diventato ricercatore all'Università San Raffaele, sempre a Milano. Insomma, questa filosofia ce l'ha nel sangue? Assolutamente, è una sorta di condanno di vocazione a seconda dei punti di vista, io preferisco intenderla come una passione vocazionale. Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, diceva Socrate. E allora la solita domanda che le faranno tutti i suoi alluni, ma a che serve la filosofia? Intanto esattamente a mettere in discussione questa domanda, cioè dell'utilità, perché il nostro è il tempo in cui tutto viene misurato sul fondamento dell'utilità, del servire a qualcosa. Ecco, la filosofia già serve a porre in discussione questa domanda, perché la filosofia, diceva già il sommo Aristotele, non serve a nulla propriamente, è proprio inciosta la sua grandezza, perché è sciolta dal vincolo di servitù, cioè del servire a qualcosa, è fine a se stessa. La filosofia forma, trasmette un sapere, una consapevolezza, che da un punto di vista utilitaristico è del tutto inutile, perché non serve, diciamo così, a essere produttivi, a creare valore e ricchezza, serve a scolpire la propria statua interiore, come diceva Plotino, cioè serve a maturare nella consapevolezza e nella coscienza critica. Il nostro tempo, che tutto misura sul fondamento dell'utile, è ovvio che debba in qualche modo demonizzare la filosofia per via della sua feconda inutilità, dico io. Eppure tutti i più grandi manager, imprenditori, si laureano in filosofia. Quello è vero, perché la filosofia è, rispetto alle scienze particolari come l'economia, un sapere di ampia visione, non è limitato al puro calcolo, e in qualche modo sottratta a quella che Gramsci chiamava la tellurizzazione del sapere. La filosofia permette di avere una coscienza olistica, direbbero i filosofi, cioè complessiva del mondo storico in cui viviamo. E quindi non stupisce che le personalità di spicco anche del mondo dell'economia, penso a Marchionne per dirne uno, abbiano in qualche modo una consapevolezza filosofica già solo per avere coscienza del mondo in cui vivono. E quindi, come dire, una prova in più per circa la necessità di essere filosofi. Lei si definisce un intellettuale dissidente e non allineato. Non allineato a che? Non allineato essenzialmente a quello che io chiamo il pensiero unico, che altro non è se non la sovrastruttura dominante dopo il 1989, quando si è detto in maniera ingenua che non esistevano più le ideologie. In realtà oggi esiste un'unica ideologia, quello è il problema, un unico pensiero, quello unico, che mira a naturalizzare, e a presentare il modo capitalistico, economico di esistenza, quello che appunto presume che tutto debba essere valutato in base all'utilità economica, come il solo criterio valido. Ecco, essere non allineati oggi significa essenzialmente mettere in discussione questo paradigma dominante e prospettare la possibilità di altri paradigmi e altre risorse di senso. Questo la mette fuori dal coro dunque? Io sì, mi ritengo felicemente fuori dal coro, anzi non mi definirei neanche un intellettuale, perché gli intellettuali oggi sono un ceto in qualche modo, sono una sorta di clero postmoderno che legittima non più il dio medievale, ma il nuovo dio del mercato, dell'economia, dei rapporti finanziari. E quindi mi definisco, se vogliamo dirla metaforicamente, come un pesce che va contro corrente. Gli intellettuali sono un banco di pesci che seguono le correnti del politicamente corretto e o essere intellettuali dissidenti, diciamo così, significa andare contro corrente, cioè andare obstinate contra, opporsi rispetto al mainstream dominante ripetuto maniacalmente dalla televisione, dai giornali, dai social network e quant'altro. Io leggo che lei si batte per l'emancipazione umana e per i diritti sociali, questa è la settimana dedicata alle donne. Allora lei chiede, che ne pensa di questa maternità surrogata? Io in estrema sintesi penso anzitutto che non sia una maternità surrogata, è un termine della neorwelliana neolingua, perché in realtà è utero in affitto la maternità surrogata, presuppone la mercificazione integrale della donna e quindi è un'offesa, un attentato ai diritti della donna, ma è un attentato anche ai diritti del nascituro. La donna viene svalutata nella forma di una semplice incubatrice a pagamento e il bambino viene svalutato nella forma di un semplice oggetto di commercio on demand che può essere programmato anche con derive eugenetiche, perché non è un caso che si vadano a programmare questi bambini con utero in affitto in America o in Canada e non in Africa ad esempio, perché se lo fa in Africa nasce con la pelle nera e quindi capiamo che ci sono delle derive eugenetiche razziste dietro queste pratiche. E poi è una forma di classismo, perché costa migliaia e migliaia di euro questa pratica e quindi riguarda un diritto dei ricchi, delle classi dominanti, quindi non si capisce perché un lavoratore o un disoccupato dovrebbero essere a favore di una pratica che oltre a essere sbagliata in sé perché mercifica il corpo della donna e del bambino è un beneficio di cui, posto che di beneficio si tratti, possono fruire solo i ricchi e i benestanti. Quando lei entra in classe così giovane, cosa pensano i suoi studenti? Ma dunque è difficile ottenere il rispetto dagli studenti perché ti vedono come un loro coetaneo quasi. Devi conquistarti la loro fiducia e la loro stima perché se fossi con i capelli bianchi, barbutto e sessantenne, cioè nella media italiana dei docenti, automaticamente si istituirebbe un rapporto di rispetto basato sulla gerarchia generazionale. Nel mio caso invece devi guadagnarti la stima degli studenti. Come inizia di solito quando entra? Con una frase che non è mia ma è del filosofo spagnolo Ortega y Gasset. Quando insegni, insegni anche a dubitare di ciò che insegni.